Cos'è che vi ha fatto innamorare l'uno dell'altro? L'onestà, la fiducia, poi il fatto che lei quando ama, ama fino in fondo. E io, sono il mio preferito, ho il mio amore che ti porti. E mi sento che ho aperto i miei occhi di nuovo, e i colori sono di freddo e di nuovo. E' una canzone in mio心o, e mi sento che mi appena. E' un più giusto, è un pazzo. Perché hai scelto Dio? No. Perché hai lasciato andare una come te. Nessuno ti chiede di esserla più forte, sempre a prescindere. Sei riuscito a deludermi anche tu. Deluderla? Lei dovrebbe essere orgogliosa di avere una figlia come Anna. Se l'ama non le chiede di cambiare. E l'ami per quello che è. Perché non è niente male. Quanto riguarda ieri con mia madre? Non doveva intromettermi, lo so. Grazie. E l'ami per 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 l'ami per